la chiesa di piazza san francesco che era la sua casa sta colma di gente che ha voluto rendere omaggio a padre claudio luciano c'era anche l'arcivescovo moretti i funerali del francescano scomparso all'età di 79 anni prete giornalista direttore soprattutto padre fondatore del gifoni film festival il ricordo affidato a claudio gubitosi che svela anche il sogno di padre claudio un bagno di folla stamani per dare l'ultimo saluto a padre claudio luciano in quella stessa chiesa piazza san francesco che è stata la sua casa per decenni centinaia di persone hanno preso parte all'esegue del padre cappuccino scomparso ieri all'età di 79 anni c'era anche monsignor luigi moretti arcivescovo di salerno padre claudio luciano è stato tra i fondatori del gifoni film festival autore e conduttore di programmi radio e tv giornalista e direttore della rivista serafico ma anche cappellano dell'università e padre spirituale a gifoni e non solo la città del festival del cinema per ragazzi è nata proprio da un'idea di claudio gubitosi e di padre claudio luciano il francescano aveva un sogno nel cassetto invitare papa francesco al gifoni film festival in occasione del cinquantenario del festival proprio quest'anno a svelarlo è stato claudio gubitosi che traccia anche un profondo e accorato ricordo di padre claudio luciano fatto di un rapporto fraterno in cui non sono mancate comunque anche le divergenze io non credevo a questa notizia quando mi è arrivata ieri mattina sono rimasto così perché ci siamo visti pochi giorni fa è stato un giorno intero a gifoni il 5 di gennaio abbiamo discusso di tutto di come celebrare il cinquantennale di gifoni quale poteva essere il suo ruolo ma soprattutto di una cosa a lui molto molto cara sono anni e anni che il suo residerio di portare il papa gifoni per tutto quello che gifoni ha rappresentato anche nell'accoglienza i primi ad aprire le porte le finestre voglia delle case a questi ragazzi che venivano ogni parte d'italia quindi padre claudio fa parte della storia del festival sicuramente nei primi anni è stato il convento dei cappuccini di gifoni ad essere l'albergo il ristorante i monaci hanno collaborato lui ha fatto la prima comunicazione a gifoni con si chiamavano i bollettini infatti con il ciclostile quindi c'è una storia intensa anche fatta però di momenti abbastanza critici fra me e lui perché la crescita del festival e anche l'integrazione con altre culture altre religioni gli chiedevo di essere un poco più diciamo aperto e chiuso su alcuni aspetti quindi ma soprattutto lui non capiva non tollerava bene la crescita di gifoni però poi come sempre dato che sono 60 anni che stiamo siamo stati insieme avevo dieci anni quando ho messo piede al convento dei cappuccini e lui era un sacerdote appena uscito dal serbatoio dei francescani si giocava a pallone penso un poco e quindi di conseguenza una vita di siamo fratelli padre spirituale organizzatore del festival insomma ci sono tanti fattori messi insieme che mi portano naturalmente a dire che ho perso veramente un pezzo della mia storia personale della mia vita anche della mia famiglia e nello stesso tempo anche del festival partiranno finalmente i lavori di ristrutturazione dallo stadio arechi per le universieri in programma a luglio il principe degli stadi si fa il look stamani un briefing nell'impianto di via all'inde tra l'amministrazione comunale le ditte aggiudicatrici e la salernità finalmente un incontro operativo probabilmente domani la fatidica ferma il classico nero su bianco e l'inizio dei lavori si è tenuto stamani in un summit allo stadio arechi tra l'amministrazione comunale le ditte aggiudicatari dei lavori per il restyling dell'impianto di via all'inde era atteso anche il segretario della salernitana De Rose il tutto in vista delle universiati del 2019 in programma nel prossimo mese di luglio l'incontro è stato anticipato di 24 ore rispetto a quanto previsto in agenda al briefing hanno preso parte l'assessore allo sport del comune di salerno angelo caramanno i tecnici dell'ente e delle società che realizzeranno l'intervento a quanto pare la scritta salernitana di colore granata sul fondo bianco campeggerà nel settore distinti mentre in curva sarà ovviamente di colore granata il resto è ancora tutto in divenire angelo caramanno ci ha tenuto a fare alcune precisazioni sull'avvio dei lavori che sarebbero dovuti partire tempo addietro l'assessore allo sport ha parlato anche dell'installazione dei sediolini che hanno fatto storcere il muso soprattutto ai tifosi della curva e dell'ipotesi di un tabellone luminoso penso che domani dovrebbe essere apposta la prima firma al primo dei tre contratti e si parte ma si parte dopo una lunghissima trafila di controlli contro controlli voglio dire io spesso sento dire in giro che si lavora il vestuti non si parte mai alla rechi alla rechi chiedo scusa non si parte mai ma che cosa si parte infatti forse per noi l'avremmo fatti già da un anno insomma e ci saremmo impegnati anche personalmente con il martello e anche la pittura se fosse stato possibile il problema è che l'agenzia ha seguito un percorso voi sapete tutta la storia del commissario di chi si è occupato di queste cose insomma c'è una serie di nomi che si è occupato prima il governo poi attraverso la regione sono state fatte le gare, è arrivato chi ha fatto le gare le gare sono state sottoposte al vaglio di tutte le autorità competenti, ivi comprese l'ANAC e ormai siamo alla firma nel momento in cui siamo alla firma finalmente riusciremo a fare quello che è il nostro sogno insomma rifare nel miglior modo possibile con le nostre disponibilità allo stadio a Rechi anche sul tema dei sediolini sto sentendo un sacco di critiche per la curva fesserie, no critiche, fesserie, quelle sono proprio fesserie il termine esatto è fesserie i sediolini sono obbligatori noi veniamo dalla curva insomma purtroppo i sediolini sono obbligatori sono obbligatori, sono obbligatori e sono obbligatori di un certo tipo quindi non è che ci possiamo inventare anche perché se li togli non sei più a norma si riduce la capienza, non si può più entrare quindi cerchiamo di smetterla con questa cosa i sediolini vanno messi ovunque ci sarà il tabellone luminoso di cui pure si è parlato? vogliamo verificare se è possibile utilizzare in house tra virgolette le economie derivanti dalle gare di cui abbiamo discusso prima poiché avevamo a disposizione una certa somma cioè si aveva a disposizione, l'agenzia aveva a disposizione una certa somma le gare ovviamente hanno avuto dei ribassi sono avanzati dei soldini se per caso fossero utilizzabili stiamo facendo questo ragionamento con l'agenzia direttamente dalla stazione beneficiaria non da quella apposta beneficiaria del contributo e quindi del lavoro sicuramente sarebbe la prima cosa da fare nell'anno del centenario nell'anno del centenario un arresto a Fisciano per i furti nell'Ateneo si tratta di un pluri pregiudicato di nocera inferiore già sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione in quanto resosi responsabile di numerevoli furti presso l'università degli studi di Fisciano che hanno destato forte allarme nella comunità universitaria l'ha arrestato da settembre a dicembre lo scorso anno prevalentemente di notte utilizzando un piccone ha messo a segno numerosi colpi scassinando i distributori automatici e la cassa del bar asportando merce e l'incasso le indagini hanno comportato sia appostamenti sia l'utilizzo di innovative tecnologie attività che hanno consentito di individuare l'autore anche attraverso il riscontro dell'abbigliamento sequestrato nel corso di una perquisizione ed intanto stamani nell'ambito del programma Costruendo un'ISA volto al potenziamento dell'efficienza delle strutture didattiche e di ricerca è stata inaugurata la sala dottorandi del dipartimento di studi umanistici il nuovo spazio presenta una superficie di 200 metri quadri attrezzata con postazioni studio e dotata di sala riunioni ufficio direzione l'intervento di riqualificazione ha riguardato la riorganizzazione e la ristrutturazione dello spazio esistente individuando una nuova destinazione d'uso degli ambienti allo scopo di garantire una migliore assistenza agli studenti dei percorsi di dottorato del Dipsum Voltiamo pagina Entra nel vivo al Tribunale di Nocera Inferiore il processo sull'inchiesta relativa al presunto scambio elettorale politico-mafioso promesse in cambio di voti con la figura del boss Antonio Pignataro a fare da sfondo all'indagine Si ritorna in aula il 17 gennaio al Tribunale di Nocera Inferiore per il processo scaturito dalla max-inchiesta della Procura di Nocera Inferiore che nell'estate 2017 stravolse la politica cittadina per un presunto scambio elettorale politico-mafioso e per associazione a delinquere indagine che vede principali imputati il boss Antonio Pignataro l'ex consigliere comunale Carlo Bianco l'aspirante consigliere comunale Ciro Eboli l'ex vice sindaco di Nocera Inferiore Antonio Cesarano e Luigi Sarno con loro decine di altri indagati che saranno giudicati dal collegio preseduto dal giudice Franco Russo Guarro Giovedì 17 la prima udienza del processo che vede riunificati i procedimenti pendenti per 416 bis associazione mafiosa e 416 ter scambio elettorale politico-mafioso nodo centrale dell'inchiesta denominata un'altra storia una delibera di giunta per il cambio urbanistico di un suolo a Monte Vescovado sul quale si sarebbe dovuta costruire una casa famiglia e un centro d'assistenza e accoglienza per i poveri su questa opera secondo le indagini ci sarebbe stato un diretto interessamento di Pignataro con il coinvolgimento di Carlo Bianco difeso dall'avvocato Andrea Vagito che avrebbe operato pressioni sull'amministrazione comunale così come su Antonio Cesarano difeso dai legali Annalisa Califano e Massimiliano Forte e Ciro Eboli il polverone dell'inchiesta attiva una serie di denunce alcune anonime che coinvolsero altri esponenti della politica di Nocera Inferiore tra questi l'attuale consigliere comunale già consigliere e assessore alle politiche sociali del comune di Nocera Inferiore durante la prima esperienza targata Maglio Torquato Ilario Capaldo il sostituto procuratore Roberto Lenza avviò approfondimenti sulla posizione dell'esponente della lista moderati per Torquato gli elementi indiziari raccolti dagli inquirenti non sono risultati però idonei a suffragare la prospettazione accusatoria si leggono in una richiesta avanzata al giudice delle indagini preliminari atteso che non c'è prova della consegna di denaro in cambio di voti posizione accettata dal giudice Leda Rossetti che ha archiviato il caso Capaldo dice di essere stato vittima di una caccia alle streghe La verità è figlia del tempo e più o più viene sempre fuori questo è quello che ritengo Sono state settimane mesi di inferno all'epoca ora l'archiviazione le riconsegna un po' di giustizia Non lo auguro a nessuno di cattiveria ce n'è stata però io da persona per bene perché mi ritengo una persona per bene ho sempre avuto fiducia nella magistratura ringrazio i magistrati per il lavoro svolto abbiamo da guardare avanti abbiamo da guardare alla città a chi ci ha votato perché sono state numerose le persone che ci hanno dato fiducia e ritengo che questo sia un atto di giustizia nei confronti di chi ci ha sostenuto nei confronti anche di questa amministrazione perché volendo o non lendo un po' il conto a colpo si è risentito perché la macchina del fango si è accesa e sono stati dei giorni dei mesi bui ringrazio la mia famiglia che mi è stata vicina ringrazio tutte le persone comuni che mi davano sostegno ma non porto rancoro nei confronti di nessuno si è conclusa senza una vera votazione rimandata alla prossima seduta la riunione straordinaria del consiglio regionale della campagna convocata ieri per discutere dell'argomento federalismo vediamo imboccare la strada del federalismo significa avviarsi verso la rottura dell'unità nazionale senza tanti giri di parole e quanto ha dichiarato ieri il presidente della giunta regionale della campagna Vincenzo De Luca nel corso dell'animata discussione che ha caratterizzato la seduta straordinaria di ieri per discutere il tema del regionalismo differenziato seduta che poi si è chiusa senza una votazione che è stata rimandata la prossima riunione occorre porre in essere una piattaforma politica che si basa sul presupposto di un'operazione verità per l'Italia sui fondi destinati alle regioni del nord e del sud su sanità servizio alla persona istruzione per partire dalla realtà vera dell'Italia ha detto il governatore che continua anche ad insistere sulla necessità di dedicare un fondo per le amministrazioni virtuose del sud ed uno per la coesione ovvero per recuperare i divari settoriali di sviluppo tra nord e sud cioè in pratica ha aggiunto De Luca l'esatto contrario di ciò che sta facendo l'attuale governo il presidente De Luca ha inoltre sottolineato che l'Italia ha perso un miliardo e 700 milioni di euro a casa dell'apertura dell'avvertenza sgangherata contro l'Europa da parte del governo e la manovra finanziaria peserà come un macigno sul futuro dell'Italia tra gli altri interventi in aula dei rappresentanti salernitani anche quello del consigliere Vincenzo Maraio l'Italia cresce solo se cresce il sud è un grave errore ha detto riportare il paese ad uno scontro tra nord e sud ha anche tenuto conto che come sostenuto da Svimez una gran parte della ricchezza prodotta al nord deriva dal sud il paradosso del procedimento delle autonomie che coinvolge solo le regioni promotrici e non anche quelle che ne verrebbero danneggiate è l'opinione del presidente della commissione bilancio Franco Piccarone e la cosiddetta secessione dei rischi sia approvata in Parlamento non potrà più essere discussa ma potrà essere oggetto solo di ricorso dinanzi alla corte costituzionale in concreto un cittadino riceverà minori servizi a secondo del luogo di residenza e sia approvata questa manovra sarà un colpo definitivo a sud nell'ambito di un'azione di governo che già penalizza il mezzogiorno d'Italia nell'opposizione invece tra gli attacchi più duri non è mancato naturalmente quello della consigliera Valeria Ciarambino espressione del Movimento 5 Stelle che ha elencato i provvedimenti contro il sud adottati dai precedenti governi di centro-sinistra e di centro-destra finanziamenti a gestione diretta ed indiretta sarà questo il tema dell'incontro in programma sabato 19 gennaio presso il castello Macchiaroli di Teggiano vediamo 18 anni di associazione imprenditori Vallo Didiano e di consorzio Fidi Insieme per sostenere le imprese del territorio un lungo periodo trascorso attraversando i diversi cambiamenti che la società e il territorio hanno subito senza mai arrendersi i due enti presieduti da Valentino Di Brizzi hanno proseguito nel loro lavoro affrontando e superando le difficoltà volgendo sempre uno sguardo attento al futuro per individuare opportunità di sviluppo per il territorio inevitabile quindi che per festeggiare la maggiore età associazione imprenditori Vallo Didiano e Confiv insieme sono in campo nuovamente per offrire un contributo di crescita con un evento informativo dedicato ai fondi europei sabato 19 gennaio per la festa dei 18 anni di IVE Confiv presso il castello Macchiaroli di Teggiano si terrà un convegno dedicato proprio ai finanziamenti in arrivo dall'Europa che saranno presentati da esperti del settore con la partecipazione anche dell'eurodeputato onorevole Aldo Patricillo a partire dalle ore 17 presso la sala Stefano Macchiaroli l'incontro dal titolo fondi europei finanziamenti a gestione diretta indiretta per un'Europa più vicina ai territori che si aprirà con i saluti e l'introduzione del presidente dell'associazione imprenditori Vallo Didiano e del Confiv Valentino Di Brizzi e del presidente della comunità montana Vallo Didiano Raffaele Accetta a seguire prenderanno la parola i relatori che presenteranno le numerose opportunità che offrono i fondi europei a relazionare saranno la dottoressa Antonella Siervo esperta di fondi europei per il territorio del Vallo Didiano e per la provincia di Salerno e direttamente da Bruxelles il dottor Valerio Valla esperto di sviluppo locale di programmi comunitari e di fondi strutturali che svolge attività di consulenza a Roma e Bruxelles le conclusioni saranno affidate all'onorevole Aldo Patriciello che spiegherà quali sono gli obiettivi che l'Unione Europea si pone nell'erogazione dei fondi per lo sviluppo un tema di grande interesse soprattutto importante anche perché troppo spesso si resta disinformati sulle reali e validi opportunità che arrivano dall'Europa in termini di finanziamenti ciò come spesso accade impedisce il completo utilizzo delle numerevoli risorse messe a disposizione dei territori dall'Europa ci spostiamo a Battipaglia dove continua a generare polemiche e prese di distanza la nomina ad assessore di Davide Bruno nota ufficiale del PD non c'entriamo niente nominato il nuovo assessore della giunta della sindaca sicilia francese che subentra la dimissionaria Stefania Vecchio all'ex segretario cittadino del Partito Democratico Davide Bruno la sua nomina innesca il prossimo valzer delle deleghe che saranno redistribuite tra gli assessori con la squadra di governo composta ora da Stefano Romano come vice sindaco e dall'aggiunta con Pietro Cerullo Rosaria Caracciolo Lucio Pastorino Carolina Vicinanza e Gabriella Catarozzo unica supersite della prima ora dal 2016 la prodo di Bruno in giunta scatena le polemiche con l'ex vice sindaco Ugo Tozzi uscito di scena nel giugno scorso a parlare di città tradita dalla sindaca la paladina dell'etica e della moralità che sposta assi politici ignorando e deridendo i cittadini che l'hanno votata il tempo dell'amministrazione francese tuona Tozzi è giunto al termine non la vuole più il popolo e non la governa più la politica adesso basta e se il PD conferma in una nota di non avere più nulla a che vedere con Bruno restando quindi all'opposizione come già specificato recentemente a prendere le difese della sindaca sulla scelta e Forza Italia con Valerio Longo e Gerardo Zaccaria che replicano a Tozzi faccia meno l'ipocrita e si rinfreschi la memoria se veramente gli preme l'unità del centrodestra a provare a spegnere gli ardori e la francese non rispondiamo agli attacchi che in queste ore colpiscono le scelte di questa amministrazione che da sempre è stata caratterizzata dal civismo oltre ai partiti all'insegna del buon governo nel rispetto delle identità politiche di ognuno la frustrazione e l'odio sono sentimenti scrive la sindaca che non ci appartengono chi ci sta attaccando ci attacca da sempre ci sta attaccando anche in queste ore perché vuole una città bloccata da sempre nelle scelte importanti ho fatto appello sia alle forze politiche sane sia all'intera città auguro al nuovo assessore e a tutta la mia squadra di governo un ottimo lavoro e restiamo a Battipaglia occupandoci della vertenza Treofan ieri la riunione dei sindacati per la mobilitazione di sabato 19 ore 9.30 in piazza Mendola vediamo partecipata riunione organizzativa al centro sociale di Battipaglia per programmare la mobilitazione a sostegno dei lavoratori dello stabilimento battipagliese della Treofan Italy l'appuntamento è per sabato prossimo 19 gennaio ore 9.30 in piazza a Mendola lavoratori studenti commercianti professionisti anche dai centri vicini istituzioni locali rappresentanti politici tutti scrivono nel manifesto i sindacati CGL CIS e UIL uniti devono sentirsi parte di questa battaglia che non possiamo permetterci di perdere non accetteremo un colpo durissimo all'economia del nostro territorio compromettendo la sicurezza e la stabilità delle future generazioni il momento di protesta quindi avvia il suo countdown con i social a lanciare il claim mobilitiamoci e con la giornata di sabato che servirà per richiamare forte l'attenzione sulla problematica che investe ai lavoratori Treofan a pochi giorni poi da ritorno a Roma per la terza volta in poche settimane perché giovedì prossimo 24 gennaio al Ministero per lo Sviluppo Economico c'è da fare i conti con un vertice forse decisivo considerando che il Mise ha chiesto espressamente al colosso indiano della Gindal di produrre il piano industriale che servirà a stabilire il futuro degli operatori di Battipaglia a seguito dell'acquisizione dell'azienda oggi praticamente svuotata e che ha stoppato la produzione di film di polipropilene tornati in studio in Curia nel centro di Castellabate la segnalazione del consigliere di minoranza Luigi Maurano che mette in evidenza il problema legato alle perdite d'acqua sul posto il 26 dicembre scorso mi fu segnalata una perdita di acqua in via Monsignor Arsenio Peccatiello a Castellabate capoluogo il 28 dicembre andai personalmente a verificare nel muro inferiore di piazza 10 ottobre 1123 c'era una grande macchia di acqua che si estendeva fino alle scale poco più in là poi notai che alcune pietre si erano staccate dal muretto della piazza a segnalare lo stato dei luoghi nel centro storico di Castellabate il consigliere di opposizione Luigi Maurano con una richiesta protocollata all'ente comunale potete immaginare allora spiega Maurano nella richiesta protocollata il pericolo che hanno corso e che corrono ogni giorno gli abitanti e i visitatori del centro storico nel passare per quella strada salì in piazza alquanto arrabbiato per delle situazioni che erano conosciute da molto tempo da componenti della maggioranza e che ancora non erano state risolte ma i disservizi nel centro storico non erano mica finiti via Santeustacchio c'era un'altra perdita un vero e proprio rivolo di materiale liquido non sono certo sia acqua scendeva dalle scale sono tornato dopo 15 giorni con la speranza che chi di dovere avesse provveduto a risolvere tali problemi ma niente sono ancora lì anzi peggiorati e allora la richiesta è mirata a svegliare da questo torpore l'amministrazione al fine di riparare le perdite segnalate in più contiene anche il sollecito per la messa in sicurezza del muretto in piazza 10 ottobre 1123 bisogna capire però conclude maurano che queste richieste di intervento nascono per l'inadeguatezza l'incuria e il menefreghismo che ormai dilaga nell'azione amministrativa più che un centro storico potremmo chiamarlo un centro stoico preparato a suo tempo per restare agli attacchi dei saraceni ma oggi sempre più mal gestito dai moderni l'anzichenecchi intanto questa mattina nel centro cilentano è stato presentato il nuovo sistema di gestione dei rifiuti una vera e propria rivoluzione che partirà ufficialmente dal 24 febbraio in linea con gli ottimi risultati ottenuti dal territorio pluripremiato sui temi ambientali non ultima la pubblicazione dei dati ARPAC sull'acqua di balneazione definita eccellente la principale novità riguarda il calendario per il conferimento della raccolta differenziata con sacchetti di colori diversi a seconda del materiale inoltre la presenza nell'isola ecologica di ulteriori servizi quale ad esempio una guida dettagliata per il compostaggio domestico sono stati inoltre evidenziati gli importanti risultati attesi con il nuovo sistema di conferimento che a regime produrrà numerosi benefici per l'ambiente va bene ora ti darò un bacetto ma non farsi illusione Cineforum al Cinemateatro San Emetro di Via Dalmazzi a Salerno dove quest'oggi è in programma il film Ti presento Sofia di Guido Chiesa con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti tra gli spettacoli alle ore 17 alle 19.30 alle 22 ingresso intero 6 euro ridotto 5 euro per informazioni 089 220489 www.cineteatrosanemetrio.it Andiamo Ti divertirai Te lo prometto Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo e poi dopo la pubblicità di nuovo insieme per la pagina dello sport con la Salernitana e il mercato in primo piano In collaborazione con A Salerno dal 1982 Ippocar Officine e ricambi meccanici Specialisti nell'installazione di impianti a gas GPL e metano Ippocar e centro revisione auto e moto autorizzato Officina meccanica revisione bombole metano ricarica aria condizionata montaggio gancio traino meccatronica e diagnostica di ultima generazione ricambi elettrici meccanici batterie auto e moto e inoltre Ippocar e punto pro auto service servizio tagliandi auto in garanzia Ippocar via pietro del pezzo 55 previsioni per domani al mattino sulle coste schierite alternate a nubi sparsi in montagna bel tempo con cieli quasi sereni nel pomeriggio sulle coste schierite alternate a nubi sparsi in montagna bel tempo con cieli sereni dal mercato al campo perché venerdì sera riparte il campionato di serie B con l'anticipo tra Palermo e Salernitana la squadra di Gregucci farà visita alla capolista del campionato cadetto non potrà contare per questa partita sullo squalificato Castiglia centrocampo dopo l'ingaggio di Minara che sarà disponibile rientra l'emergenza anche grazie al recupero in extremis di Akpa Akpro quindi 3-4-1-2-1 la soluzione tattica è scogitata da Gregucci con Akpa e Di Tacchi a centrocampo con probabilmente Pucino e Vitale sulle corsi esterne e con i due Anderson di Aman e Andrei in odore di una maglia da titolare alle spalle dell'unica punta che sarà Jalov centra avanti così come nell'esperienza dello scorso anno a Cesena la corte di Castori in difesa invece chiede spazio Bernardini che caso strano non gioca una gara ufficiale con la serenitana proprio dal match dello scorso campionato si trattava del dicembre del 2017 proprio a Palermo allora finì 3-0 per il Rosanero Gregucci valuta Bernardini in odore di una maglia da titolare ci sono Mantovani e Gigliotti il dubbio potrebbe essere proprio tra Bernardini e Migliorini queste le ultime sul fronte era questo l'ultimo servizio del nostro TGOG News grazie per la cortese attenzione a risentirci vuoi rivedere questo programma? visita il nostro sito tvogisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand e clicca su